Santo Rosario della Beata Vergine Maria Segno della Croce Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Credo degli Apostoli Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra In Gesù Cristo, Suo unico Figlio, Nostro Signore Il quale fu concepito di Spirito Santo Nacque da Maria Vergine Patì sotto Ponzio Pilato Fu crocifisso Morì e fu sepolto Discese agli inferi Il terzo giorno risuscitò da morte Salì al cielo Siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente Di là verrà a giudicare i vivi e i morti Credo nello Spirito Santo La Santa Chiesa Cattolica La comunione dei Santi La remissione dei peccati La resurrezione della carne La vita eterna Amen Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo, così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Misteri gloriosi O della gloria Primo mistero della gloria Gesù è risorto e vivo Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Com'era nel principio Ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen O Gesù Perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco dell'inferno Porta in cielo tutte le anime Specialmente le più bisognose della vostra misericordia Secondo mistero della gloria Gesù Ascende al cielo Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto Del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto E benedetto è il frutto Del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia Piena di grazia Il Signore è con te E benedetto è il frutto E benedetto è il frutto prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Terzo mistero della gloria Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre, e regina del cielo e della terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Preghiera conclusiva. Signore Gesù, per questi misteri della tua vita, passione, morte e gloria, e per i meriti della tua Santa Madre, Ti preghiamo, converti i peccatori, aiuta i morenti, libera le anime del purgatorio. Concedi a tutti noi la tua grazia per ben vivere e ben morire, e la tua gloria per contemplare il tuo volto e amarti per l'eternità. Signore. Amen. Salve Regina Santa Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.